Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Sui canali social di Per Sempre News l'informazione sulla palla ovale. Andrea Piardi sarà il primo arbitro italiano a dirigere un match del Six Nations. Il prossimo Six Nations, quindi il Guinness Six Nations 2024. Andrea Piardi sarà il direttore di gara dalla Viva Stadium di Dublino di Irlanda Galles. Il 24 febbraio, quindi in occasione del terzo turno del Six Nations 2024. Restando sempre in ambito di Six Nations, è stata ufficializzata la lista degli arbitri che dirigeranno la nostra nazionale italiana, quindi i nostri azzurri, diretti da coach Gonzalo Quesada. Il primo match degli azzurri sarà qui in Italia, sempre dallo Stadio Olimpico di Roma. Italia-Inghilterra il 3 febbraio. Sarà diretta dal neozelandese Paul Williams. Irlanda-Italia dell'11 febbraio. L'arbitro sarà il francese Pierre Broussée. Francia-Italia del 25 febbraio. L'inglese Christophe Ridley. Italia-Scozia del 9 marzo, quindi di nuovo all'Olimpico di Roma. Il sudafricano Jaco Peiper. Quinto e ultimo match degli azzurri. Galles-Italia del 16 marzo 2024. L'arbitro sarà il francese Mathieu Reynal. L'Under-19 della Francia sbarca a Bagnoli. Per sfidare i nostri azzurri, questo sabato, quindi sabato 9 dicembre, alle ore 15, di Under-19, a Bagnoli, all'ex base nato, quindi al villaggio del rugby, la casa dell'amatori Napoli Rugby. L'evento è stato presentato martedì scorso alla sala dei baroni del maschio Angioino. Erano presenti il presidente dell'amatori Napoli Rugby, Diego Dorazio, Lorenzo Fusco, il direttore tecnico dell'amatori Napoli Rugby, Giuseppe Calicchio, presidente del FIR Campania, l'assessore allo sport e pari opportunità Emanuela Ferrante, il direttore dell'ARUS, Flavio De Martino, Agostino Fersani, delegato del CONI Napoli, Gennaro Esposito, presidente, commissione sport del comune di Napoli. BKT Rugby Championship, dove giocano i Leoni Biancoverdi della Benetton e le Zebre Parma. Continua la striscia positiva per quanto riguarda la Benetton Rugby, un'altra vittoria, battono gli Ospreis 18-13. Le Zebre Parma, ancora una sconfitta, sono state battute 31-7 a Stellenbosch dagli Stormers. Gli Stormers che praticamente allungano nella ripresa, allungano quindi al secondo tempo. Il primo tempo si era chiuso con le Zebre, insomma ancora in partita, un ritardo soltanto di 5 punti, quindi si era chiuso 12-7 a favore degli Stormers. La settimana scorsa, con gli anticipi e i posticipi del sabato e della domenica, è andato in scena il massimo campionato nazionale italiano, quindi la Serie A Elite maschera. Due match, i soliti due match, il settimo turno, gli anticipi del sabato, il Colorno contro Lions 22-17. Il Rugby Viadana batte i poliziotti romani delle Fiamme Oro 14-9. I posticipi della domenica, altri due match, ovviamente Rangers Rugby Vicenza, Femi CZ Rovigo 16-45, Mogliano Veneto Rugby, Petrarca Rugby è finita 19-18. In classifica vediamo in questo momento il Colorno in testa con 24 punti, seguito dal Petrarca a 20, Rovigo e Viadana a 19, i poliziotti romani delle Fiamme Oro a 17, Valoragby Emilia a 15, Lions 14, Mogliano a 12 punti, chiude la classifica della Serie A Elite maschile, il Vicenza con due punti. Petrarca, Rovigo, Viadana, Valoregby, Lions, Mogliano e... hanno un match ancora da recuperare. E' scesa in campo anche la femminile, quindi il massimo campionato nazionale italiano di Serie A Elite femminile. Domenica scorsa, il terzo turno, Val Sugana Rugby Padova, Cus Milano 36-5, Calvisano Cus Torino è finita 12-24, le Furie Rosse del Colorno, Villorba 24-37, Treviso, Unione Rugby Capitolina è finita 14-5. La classifica ci dice, Val Sugana in testa con 15 punti, seguita dal Cus Milano a 9, il Cus Torino a 5, chiude la classifica della Serie A Elite femminile, il Calvisano ancora a 0 punti. Campania ovale, domenica scorsa si è scesi in regione, si è disputata la seconda tappa della Coppa Italia femminile A7, praticamente un match di due tempi da 25 minuti che ha visto il Neapolis Rugby femminile confrontarsi con una franchigia formata dal Sulmona, dal Rugby Clan Santa Maria Capovetere, l'Amers Campobasso e la zona orientale di Salerno. Il match è stato vinto per 8 mete contro 5 della franchigia dal Neapolis Rugby femminile. È scesa in campo anche la Serie C, esattamente la fase di qualificazioni, Amers Campobasso, quarto circolo Rugby Benevento, è finita 19-31. Napoli a fragola, contro Rugby Clan Santa Maria Capovetere, 24-3. Faglia contro l'Associazione Polisportiva Partenope, è finita 7-79. In campo anche i giovani dell'Under 18, Taranto contro Partenope 0-97. Napoli a fragola, amatori rugby Torre del Greco 74-0. Nello scorso weekend, esattamente sabato 2, domenica 3 dicembre, è andato in scena sul campo Giuseppe Leone del GS Rugby Pomigliano lo stage formativo Nati 2008. Uno stage che ha visto i ragazzi dell'Under 16 della Campania, della Sicilia, della Sardegna e dell'Abruzzo appunto sfidarsi in due giorni, mattina e pomeriggio del sabato, chiusura ovviamente la formazione, tanta formazione per i ragazzi e per i tecnici capire esattamente a che livello tecnico sono questi atleti. era presente il presidente del FIr Campani, è stato presente, ci è venuto a trovare Giuseppe Calicchio, ovviamente per quanto riguarda la Campania c'era Mariano Carone, responsabile di tutte le selezioni delle selezioni campane, c'era Augustin Ponticorvo, per quanto riguarda la Partenope, c'era anche Marcos Reina che ci è venuto comunque a salutare, insomma si è visto sia sabato che domenica, per quanto riguarda l'amatore Napoli Rugby c'era Giovanni Aiello, il nostro Drago, ovviamente c'erano i tecnici della Sicilia, che della Sardegna, che dell'Abruzzo, presenti anche sul campo leone del GS Rugby Pomigliano i tecnici federali Gino Donatiello, Francesco Salerno e Peppe Bigliotti. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, canali social di Per Sempre News, seguiteci, seguiteci, seguiteci. Testa bassa, palla ben stretta, l'obiettivo è la meta, Saluti Ovali a tutti.